Buonasera, un saluto a tutti. Interveniamo con questo video serale solamente per dirvi che è a Milano finalmente Gerry Cardinale. Avevamo detto che era un giorno fondamentale per la storia del Milan, per la svolta proprietaria del Milan. Gerry Cardinale è sbarcato a Milano e abbiamo anche le prime immagini di un incontro che c'è stato in un noto hotel milanese con Paolo Scaroni, Giorgio Furlani di Elliot, Ivan Gazzidis e proprio il futuro proprietario del Milan, il CEO di Redbird Capital Gerry Cardinale. È a Milano, abbiamo le immagini, naturalmente si vede poco la sua presenza perché è blindato da guardie del corpo, da autisti che hanno comunque provato ad allontanare i cronisti dal posto. Ringraziamo anche la redazione di Milan News per le immagini girate e però Gerry Cardinale è a Milano. Nella giornata di domani ci sarà il comunicato ufficiale che annuncerà il signing tra Redbird Capital e il fondo Elliot per questo patto vincolante, per questo accordo preliminare che ci sarà tra i due fondi americani e poi successivamente tra qualche settimana addirittura il closing, il passaggio delle quote societarie da un fondo all'altro. Però Gerry Cardinale è a Milano, ha visto Scaroni, Gazzidis e Furlani. In programma anche un incontro con Paolo Maldini, un colloquio con Paolo Maldini molto importante. Vi lascio con le immagini di Gerry Cardinale che sale in auto e va via con i suoi bodyguard che sono presenti all'interno dell'auto. Probabilmente è andato a cena ma nella giornata di domani sarà nella sede rossonera dove arriverà anche il comunicato ufficiale del signing. Grazie a tutti. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Buongiorno, buongiorno. e non è stretto vai 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 vai